C'è una campania in caos istituzionale, l'avevamo detto due mesi fa che sarebbe finita così. Oggi abbiamo i consiglieri regionali che devono chiedere per favore se entrare in consiglio regionale. Questa non è più democrazia e soprattutto la cosa che mi preoccupa è che questa è una regione in cui 10.000 famiglie non prendono più lo stipendio, quelli dei consorsi di bacino. Ci sono il 60% di disoccupazione giovanile, abbiamo la terra dei fuochi e da un mese la campania non ha più nel governo e nel consiglio regionale. La convocazione per noi è legittima e tuttora esistente, questa seduta doveva servire a prendere atto della sospensione di De Luca e invece De Luca mette le mani sul consiglio regionale attraverso il consigliere regionale anziano che è del PD e quindi sconvoca la seduta per evitare che si prenda atto della sospensione. Questo è un fatto gravissimo che interrompe un inter di legge, quindi noi oggi siamo venuti qui, non abbiamo ricevuto al momento in tempo congruo nessuna comunicazione ufficiale e siamo venuti a dire che noi c'eravamo. Quello che io voglio raccontare ai cittadini non sono i problemi giuridici che sono anche difficili da capire in questa questione, è dire che è passato un mese dalle elezioni e la campania è senza un governo regionale, ci sono problemi gravissimi che attendono risposte e la campania viene tenuta ostaggio dei problemi giudiziari di De Luca. Chiediamo che si vada subito al voto, che si risolva questa questione assurda che va avanti di forzatura in forzatura, di illegittimità, in illegittimità, la campania ha bisogno di certezze e ha bisogno di qualcuno che si metta a lavorare subito, immediatamente. Si sta andando avanti soltanto attraverso forzature, si faranno atti che potranno essere impugnati, c'è un'incertezza assoluta, l'ha capito anche Renzi che ha evitato di fare una legge ad persona e alla fine, forte del ricorso che noi gli avevamo fatto, ha deciso di sospendere De Luca secondo la Severino. Adesso è De Luca che invece viola la legge e impedisce al Consiglio regionale di prendere atto della sua sospensione. Noi non lo permettiamo, la battaglia per la legalità è la battaglia per il futuro di questa terra, non è una questione di cavilli giudiziari. Noi chiediamo certezza, chiediamo regolarità, chiediamo che le istituzioni possano lavorare e che non vengano bistrattate come sta succedendo.